Per me è riduttivo, perché spesso viene definita una delle voci più belle d'Italia, ma non è soltanto una bellissima voce, è una delle più brave doppiatrici che abbiamo in Italia, quindi bando alle ciance, così, solo per presentarla, voce soltanto di Emma Stone, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Eva Green, Kristen Dunst, Lea Seydoux, ma sicuramente dimentico una marea di altri nomi, io do il mio graditissimo bentornato qui a Movieplayer alla grandissima Domitilla D'Amico. Ciao Domitilla! Ciao Giuseppe, che presentazione! Vabbè, ma insomma, una volta che c'è un ospite importante, bisogna fare una presentazione all'altezza, e grazie ancora! Ma grazie a te, per me è un onore, veramente, io lo sai che ti stimo tantissimo, mi piace tutto quello che scrivi. Sì, sono sempre d'accordo, te l'ho già detto. Tranne su Tor Ragnarok, me lo ricordo. Sì, è vero, tranne su Ragnarok. Grazie, mi lusinghi, io davvero... No, no, dico la verità. Va bene, va bene, va bene, anche io dico la verità, non facevo i convenevoli, sappilo, quindi sono super sincero. Allora, intanto c'è Ruggero che ti saluta, ciao Ruggero. Ciao Ruggero. Che emozione sentire, che emozione sentire Domitilla, se no, condivido l'emozione. Con Domitilla, se vi ricordate, a luglio dell'anno scorso, ci eravamo soffermati, chiaramente c'era anche Angelo Maggi, ospite, ci soffermammo sul dare la voce ai supereroi, no? Parliamo un po' della tua esperienza nel Marvel Cinematic Universe su Scarlett Johansson, su cui magari dopo torneremo, però oggi mi piaceva parlare con te, ripercorrere un po', insomma, la tua carriera, parlare anche degli altri tuoi ruoli iconici, raccontare un po' anche i retrosceni dietro le quinte del doppiaggio, anche perché, cioè, lo so che sei abituata, perché c'hai sempre tanti film importanti, però c'è una bella concentrazione in questo periodo, anche pre-Oscar, di ruoli e di film importanti, in un periodo in cui i film importanti ci sono mancati, ci stanno mancando, quindi mi fa piacere sentire anche solo il profumo dei film importanti che ci aspettano adesso a maggio, a luglio, un altro film importante. Speriamo bene. Eh, ecco. La prima domanda che ti volevo fare, da spettatrice, quanto ti manca il cinema? Tanto, mi manca veramente tanto, perché è ok che adesso possiamo vedere tutto a casa, non lo so, però a volte perdi più tempo a scegliere quello che vuoi vedere, se non hai, diciamo, già l'idea in testa, che a vedere il film stesso. Non lo so, il cinema è una magia, una magia che magari a casa non riesci a replicare in qualche modo. Io, ad esempio, a casa ho un grandissimo schermo, ho cercato di riprodurre un pochino il cinema, ma non c'è niente da fare. Perché poi è bello anche vederlo con le altre persone, andare e non essere soli. E il rito. A parte la tua famiglia, no? È chiaro, non li vedi da solo. Però è bello proprio sentire l'energia dell'altra gente, di come percepiscono il film. Concordo, concordo, e concordo soprattutto sulla sensazione un po' labirintica, dispersiva, quando sei davanti ai cataloghi e passi magari mezz'ora a scegliere. Troppa roba. Concordo, concordo. Sono pienamente d'accordo e vivo anch'io questo disagio. Mi piace essere lì che scegli il film, sei lì tranquillo e te lo godi. Ma questa, diciamo, ormai sono sei mesi che i cinema sono chiusi e veniamo da un altro anno in cui, insomma, sono stati aperti a singhiozzo. Voi anche in cabina, la soffrite un po' questa cosa? Cioè sapere anche che il prodotto che magari state doppiando non avrà quella dimensione. Un minimo, anche inconsciamente, vi condiziona o chiaramente da grandi professionisti quali siete, non ci pensate? Ma diciamo che un pochino magari ci pensi, però ci sono talmente tante cose in ballo che non puoi permetterti di pensarci troppo perché il prodotto poi deve essere sempre confezionato bene, deve essere perfetto perché se ci sono delle cose che non vanno lo rimandano indietro e ti fanno rifare delle cose. Quindi non hai scampo. Certo, certo. No, e poi secondo me non sarebbe neanche giusto perché già ci hanno tolto tanto, almeno la passione deve continuare ad esserci. Assolutamente. Adesso, come vedi, sto mandando un film a proposito di cose attuali, che è Lockdown, in cui sei tornata a dare la voce e ho visto il film egregiamente a Enadoi, fantastica. Difficilissimo, eh. Cioè ci sono due monologhi. Sì, sì. Io le ho chiamate Montagne Russe, in cui, cioè, guarda, tipo uno è questo qui. Sì, sì. E infatti ti chiedo, innanzitutto, poi il film l'avrei visto, che ne pensi del film, ma com'è stato doppiare un film comunque così particolare che si avvicina molto allo spettatore? Perché ricordiamo, i protagonisti sono i Lockdown, sono una coppia che si sta, sostanzialmente, sono separati in casa e quindi devono convivere forzatamente. Vediamo anche scene di quotidiano ormai, quotidiane come fare la spesa, mascherine, eccetera. Quindi ti chiedo un po', cioè, sia che effetto ti ha fatto doppiare un film che parlava di quello che stiamo vivendo, sia le difficoltà del personaggio di Enadoi. Beh, questo, diciamo che è uno, è il primo film, credo, che è uscito con questa, con la pandemia come protagonista, no? Sì, sì. Credo sia proprio il primo. A livello internazionale, film importanti, sì, poi è uscito Lockdown all'italiana da noi, ma io non lo consideravo proprio. Esatto, sì, diciamo che facciamo finta che di nulla. Non è successo niente. Niente, come non detto, venite in là. No, guarda, è stato veramente molto, molto carino. Quando mi hanno chiamato sono stata felicissima, perché ho detto, meno male, a me piace tanto a Nathaway, mi piace darle la voce. Da quando mi hanno scelta per il Cavaliere Oscuro, insomma, vabbè, poi ti racconto lì come è andata. Per quanto riguarda questo film, invece, mi sono trovata un copione alto così, perché chiaramente è parlatissimo e dei monologhi suoi veramente sembrava una pièce, è una pièce teatrale, perché hai visto, sono tutti molto fuori. Sì, sì, è vero, è vero. Quello che ho potuto fare per cercare di entrare nella sua recitazione, in quello che sentiva lei è stato di unire tutto. Cioè, tutte le scene che tu vedi sono fatte tutte di seguito, non sono divise a pezzettini come si fa di solito. Cioè, non in anelli. Diciamo che è una cosa che faccio spesso io, a me piace recitare per l'intera scena, quindi dall'inizio fino alla fine, perché, non lo so, ci entro meglio. Cioè, non vuoi perdere il flusso? No, non voglio perdere il flusso. Bravissimo. E quindi tutti i monologhi che vedi sono fatti dall'inizio alla fine, provati dall'inizio alla fine, senza mai fermarsi. Ed è stato veramente un lavoro molto difficile. Fortunatamente avevo degli ottimi dialoghi. Quando tu hai un ottimo adattamento, è chiaramente tutto più semplice. Avevo degli ottimi dialoghi scritti da Giorgia Lepore, che è stata scelta per questo film. E quindi, chiaramente, quando tutto corrisponde, la parola corrisponde alla bocca, il senso è giusto, ti puoi concentrare su quello che è veramente importante. Sì, sì, guarda, ti ripeto, l'ho notato guardandolo l'altra sera e non è facile. perché si rischia l'overacting, no? Come dicevi tu, molto fuori. Si rischia l'overacting? Eh. Meno male. Mi fa un sacco di gioco. No, no, davvero, è super equilibrato, è anche l'isteria, i momenti di, insomma, di squilibrio, che comunque la situazione è pesante nel film. Poi è un film che ho trovato anche molto particolare perché... Sì, perché inizia in un modo. Eh, no, ma, esatto. No? E poi... Ma non diciamo niente per chi lo vuole vedere. L'ho visto anch'io, l'ho visto domenica. Ah, bene, beh, quindi ti è piaciuto rivederlo, cioè ti ha convinto. Beh, ero troppo curiosa di rivederlo. Guarda, ti dico, ero proprio curiosa di capire come erano venute tutte quelle scene in particolare perché avevo il direttore e l'assistente in sala che ero... Oddio! Immagino, immagino. Sì, impauriti perché comunque fa delle cose assurde lei. Poi mettici pure che le fai tutte di seguito, no? Esatto, esatto. Cioè, diciamo che appunto è un bel meno... È un mio modo stringermi un po' oltre, per vedere, per un po' di didattica anche. Bello, bello. Siamo partiti subito con un bel aneddoto dietro le quinte. Intanto ti rego subito questa domanda molto interessante del nostro Ruggero che ti chiede Quanto è difficile medesimarsi in personaggi con un'indole differente dalla propria? C'è mai stata una scena in cui hai pensato No, io questa cosa non la voglio fare. È troppo, troppo qualcosa. Se c'è stato mai qualcosa. Sì, certo, sicuramente c'è. C'è e c'è stata. Te ne posso citare tantissimi Ho fatto film di tutti i tipi, veramente Però, sai, a quel punto entra... Tu sei una professionista Certo E non è che ti puoi o vergognare o lamentare Se l'opera è stata fatta così... Devi restituire quello che è stato fatto Devi restituire... Non ti puoi rifiutare Devi metterti la maschera del professionista E andare avanti Certo, ci sono ruoli magari un po' più difficili per me Però li fai e li cerchi dentro di te Nel tuo vissuto Esatto, sì, sì, sì Ma infatti... Ripeto, la differenza, Giuseppe, scusami Non è che tu vai a... La differenza con l'attrice è che tu il personaggio lo devi creare da te e anche fisicamente Lì tu vai a rifare una cosa che è già stata fatta E quindi la devi cercare non all'esterno Ma proprio dentro e facendola uscire con la voce Certo No, no, è un lavoro... Tra l'altro, cioè, io ti chiedo A proposito di tecnica Visto che mi hai fatto subito un cenno molto interessante alla tecnica Tu quanto sei fisica nel doppiaggio? Perché uno si fa presto a dire prestare la voce Però c'è... Sono fisica Eh, esatto Sono fisica Sì, sì, sì Sono molto fisica perché non puoi stare fermo e statico Devi muovere a seconda della scena Per quanto mi riguarda è così Poi lavori con Fiamma Izzo Fiamma Izzo, anche lei è molto fisica come direttrice E gli attori, per esempio, devono replicare esattamente quello che fanno gli attori in originale Quindi se loro corrono, noi dobbiamo correre Dobbiamo fare tutto E questo è anche un modo divertente Un modo diverso perché ognuno ha il suo metodo Però, insomma, non ti annoi È bello anche lavorare in questa maniera, secondo me Comunque una cosa che proprio non ho voluto dire E che mi ha... Quasi, quasi non la dicevo Un rullo di tamburi È ultimamente nel trailer di Suicide Squad Ah, ok, ho capito benissimo La scena finale Ho capito Ho capito benissimo Sì, sì, sì È stato too much anche per me Che ne ho dette di tutti i colori nella mia vita Ma quella forse per me, che magari sono credente, no? Sì, sì, sì Mi ha un po'... Certo, sì, sì Vabbè, James Gunn è uno che spinge parecchio Sì, sì, ce l'aspettavamo da James Gunn Chissà che cosa farà Non oso immaginare Se quello era il trailer Infatti adesso ti aspetta il film Ma lei non l'avete ancora doppiato il film? No, 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 ancora no Quindi, cioè, ti aspettano grandi cose adesso nel film, immagino Guarda, non oso immaginare Lì ho avuto un po' di difficoltà Però anche lì, che fai? Quella dice così Che fai? Non dici così Lo dici? Mi piace subito quest'aneddoto preso dall'attualità Che l'abbiamo visto tipo due settimane fa Il tempo E ce l'abbiamo tutti impressa nella memoria Eh, chi se la scorda Esatto, esatto Tu sei tornata a casa, Domi Ma che cosa hai detto? Capito? Mamma, mamma Voglio vedere il trailer di Suicide Squad 2 No Meglio di no Non è il caso Magari un'altra cosa, tesoro Beh, mi fa molto ridere questa cosa Ecco, a proposito Vedi, Ruggero ci fa degli assisti importanti oggi Questa vale Tu guardi i film in lingua originale O doppiati Ma soprattutto ti riascolti E questo è interessante Ma riesci a goderti il tuo lavoro In generale, proprio i film doppiati O sei così tecnica E quindi non riesci a calarti E quindi in qualche modo ti distrae La spettatrice No, no, no Se il doppiaggio è fatto bene non ti distrai Certo No, no, no Assolutamente Ti godi il film Se il doppiaggio è fatto male Poi è chiaro che mi riascolto Però, insomma Quando tu sai che hai lavorato in un certo modo Ti fa piacere risentirti Poi riesco anche a staccarmi In senso capisco quello che ho fatto Però mi godo anche il film E chiaramente Se un doppiaggio è fatto male Me lo guardo in originale il film Anche però a volte si è fatto bene Perché sono curiosa di capire certi meccanismi Certe frasi come sono state tradotte Vabbè, ma io ho proprio la passione mia Sono proprio una cinefila Lo so, lo so Si nota, si nota Si nota Si nota E' interessante poi questo discorso del doppiaggio Che in effetti io lo chiamo sempre Un bellissimo gioco di prestigio il doppiaggio Il doppiaggio bello è quello che non si vede Che non si nota Bravissimo, è proprio così Vedi che siamo sempre d'accordo Vedi? Dovremmo fare una live in cui siamo in disaccordo No, non è possibile Litighiamo No, no, però è interessante Questa cosa dell'illusionismo Ed effetti è vero Tra l'altro ti dico Questa è una cosa che chiedo L'ho chiesta anche di recente ai tuoi colleghi A Flavio Quiloni e Alessio Puccio Questa è una critica che faccio alla nostra categoria Noi facciamo, cadiamo nell'errore Ora tu dimmi se mi sbaglio Se percepisci anche tu questa cosa Noi parliamo del doppiaggio Come stampa specializzata Solo quando a doppiare non sono i doppiatori Ma i talent Sì E si cade in questo paradosso Cioè diamo per scontata La qualità del doppiaggio Oppure quando c'è un doppiaggio fatto male O ci sono persone che sono prestate al doppiaggio Subito criticate Eh, esatto Cioè È vero Cioè da una parte Io noto questo Che da una parte Il pubblico È molto amante del doppiaggio italiano Però la critica è un po' snob Secondo me Sul doppiaggio Lo ammetto Quindi Non so se voi percepite questa cosa Sì, sì Io la percepisco Però è un peccato Perché alla fine Non sono tutti così Però Insomma Diciamo Chi se ne intende Non è così Certo Sì, sì No Ma anche perché Dai Insomma Il cinema Nel cinema Il doppiaggio è sempre stato molto importante Le frasi iconiche Dove le abbiamo imparate noi? Assolutamente sì Assolutamente sì È un servizio Che avvicina Non potremmo saperle, no? Sì Boh io Mi baso sempre Sui film Quelli anni Ottanta Insomma Con cui siamo cresciuti Quanti ne possiamo sapere A memoria Eh, quello Mica lo sappiamo in inglese Lo sappiamo in italiano E ci fa ridere Certo Sì, sì Ma tante cose Sono diventate iconiche Attori Iconiche Iconiche Attori Cioè Io penso Non lo so Alle voci storie Con cui sono cresciuto io Che può essere appunto Ferruccio Amendola Cioè Per me Rocky Nel primo È chiaramente Il grande Gigi Proietti Poi l'ora dopo È Ferruccio Erano Giannini Pino Locchi Ma dai Ma anche gli stessi Erano una poltrona per due Il principe cerca moglie Esatto Balle spaziali Più recente Per dire Sto elencando Tutti quelli che fanno ridere Ovviamente Però Per dire Anche Come si chiama quello lì Robin Hood Un uomo in calzamaglia Vabbè Sì Cioè Dai su Mel Brooks Sì 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 Ragazzate subito quel consegno Sì Vabbè Se parliamo di doppiaggi Ma lì siamo a livelli fantastici Perché lì quelle sono Chicche di adattamento Per me anche Frankenstein Junior È pazzesco Per me Ululì ululà Resta una delle perle Dell'adattamento Del doppiaggio italiano Nella storia E non credo di esagerare Balle spaziali È uno dei pochi film In cui preferisco Il doppiaggio italiano Sì vabbè È fantastico E poi un altro invece Che proprio per me È un capolavoro È Il Sirano de Bergerac Con Depardieu Ah bellissimo Che ha Questo adattamento Di Oreste Leonello Tutto 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 in rima Con un Oreste Lizzini Immenso Tu pensa che Quell'adattamento Lo studiano All'università Cioè studiano Quello di Leonello È un caso studio Praticamente Sì Fantastico Questa chicche Oggi ci stai riempendo Di chicche Domitilla Vedi Sono retroscena Interessanti Ma a proposito Di retroscena Poi arriviamo Diciamo Ai ruoli Caldi Di questo periodo Però mi piaceva Fare Comunque Raccontare Un po' Quelli che sono state Le tappe Della tua carriera Perché tu Chiaramente Si parla anche tanto Del doppiaggio Che spesso C'è questa nomea Delle caste Le famiglie Tu non sei Non sei figlia d'arte Non faccio parte Della casta Non sei Sei fuori Casta con la k Non fai parte Della casta Sei fuori dalla casta Ma quindi Insomma Esempio fantastico Di come il talento Il lavoro E la professionalità Portino In alto Ma ti voglio chiedere Ripensando La tua carriera Anzitutto La domanda banalissima Te la devo fare Cioè Quando hai capito Che volevi fare questo E quando hai capito Che potevi fare questo Cioè Quando hai capito Di essere in grado E poi Seconda domanda Che si lega la prima Qual è stato Secondo te Il ruolo Chiave Il ruolo Del trampolino di lancio Cioè Quello che ti ha fatto Il click Che ti ha fatto Iniziare a diventare Domitila d'amico Sì Dunque Vai Vai Prenditi il tuo tempo Dunque Ti premetto Che da piccola Io recitavo Ok Quando avevo 4-5 anni Mia madre Mi metteva Per addormentarmi Le favolette Le audiocassette Sì sì Quindi io mi imparavo Tutte le favole A memoria Per caso Tramite Degli Amici Che venivano a cena Hanno sentito Che io Recitavo Queste favolette A memoria E sono impazziti Perché sai Nel doppiaggio I bambini mancano sempre Quindi quando C'è un bambino Che magari Sa parlare bene Che non ha inflessioni Subito lo prendono E lo portano Insomma al lavoro E da lì Io ho capito Dal primo momento Che sono entrata Dentro la sala Di doppiaggio Proprio Subito Subito lo volevo fare Ho capito Che volevo stare lì Quindi Perché c'era proprio Sì sì Piccola E c'era una magia Che per me Era impagabile Questa cosa Del buio Con il film lì Davanti a te E gli attori Che recitavano Sopra All'attore americano Per me era una roba Pazzesca E poi E poi con quelli Con gli attori Con i doppiatori Bravi dell'epoca Per cui ti puoi immaginare Che cosa posso aver sentito E che cosa Ringraziamo veramente Chiunque Posso aver imparato Io di questa cosa Ne vado molto fiera Un po' Me ne vado anche Diciamo che si vedono i frutti Sono contenta Perché comunque è stato Un duro duro Lavoro Pieno di sacrifici Perché comunque Io non ho mai trascurato Neanche lo studio Sono sempre Andata avanti Facendo l'uno e l'altro Il pianoforte Ho fatto una vita Piena Ma con tanti tanti sacrifici E con una grande Tenacia Certo Questa è una cosa Che mi ha mandato avanti Una grande grande tenacia Perché poi Nel corso Anche della vita Quando sei piccolo Quando sei adolescente Trovi anche tante persone Che non gradiscono E quindi cercano un po' In qualche modo Di metterti i bastoni Fra le ruote In tanti tanti modi Non mi sono mai fatta Scalfire da niente Sei andata dritta Per la pistola No Perché ho sempre pensato Soltanto A fare bene Lì davanti Lì a Leggio Ho sempre pensato Se io vado bene Lì Niente Mi scalfisce Sai Le chiacchiere Le stupidaggini Il piccolo Mobbing No Niente Ti può Ti può scalfire Se tu sei Bravo In quello che fai E Devo dire Che Almeno in questo No no ma Si avverte Ma da Da come anche me la stai raccontando Cioè si percepisce Che tu Lo senta quasi come Il tuo habitat naturale Non la cabina Il Leggio Quell'acquario Lo chiamo l'acquario Perché è un mondo a parte Mi sembra A me me lo immagino così Sì è un mondo a parte Perché per me È un mondo Sei Sei stretto Ma in realtà Non lo so Per me C'è tutto lì Che bello Il primo ruolo Il primo ruolo Che mi ha consacrata Secondo me è stato Proprio È stato American Beauty Ma Che film Che film incredibile Secondo me è stato da lì Perché poi da lì Diciamo Sono arrivati Tanti tanti ruoli Ti spiego questa cosa Quando tu hai Verso Ti hai conto 12 13 14 15 anni Quell'età lì Sì All'epoca Si usava Oggi non più Diciamo Non ti distribuivano Sulle ragazze Della tua età Ti distribuivano Su Diciamo Le bambine Un po' più piccole Sì Perché visto che c'è sempre Un po' di carenza Allora tu cercavi Un po' di rimpicciolire E però A forza di rimpicciolire La tua voce Non si sviluppa In una maniera naturale Se tu Non la eserciti Cercavi Cerchendo di abituare Le tue corde vocali Nella giusta via Si rovinano E quindi Ti si rovinava la voce Cominci ad avere dei problemi Sì La forzatura si sente Si sente Si E poi ti fa proprio male Hai difficoltà A doppiare i tuoi ruoli I ruoli della tua età Sì All'epoca Accade che Maura Vespini Mi distribuì Su Beautiful Avevo 15-16 anni Forse anche 17 Ma una fatica Una fatica Giuseppe Che non ti immagini Perché per me Diciamo era un ruolo Era il primo ruolo Che facevo Della mia età E c'era Maura Vespini Che mi diceva Non rimpicciolere Non fare questa voce Più spessa la voce Più spessa Hai la voce tua E mi ha iniziato E mi ha insegnato Ad andare anche di diaframma Cioè quindi A non sforzare Tutta questa zona qui Ma Di andare di pancia Che è Proprio la tecnica migliore Perché tu urli Fai quello che ti pare Non ti si strapperà mai Mai Perché se tu vai di diaframma Puoi fare quello che ti pare Te lo dico È così Certo Sì che lo sforzi Le porte vocali Quindi dopo questo training Che è durato tanti mesi E poi Alla fine Piano piano La mia voce Si è sviluppata Nella maniera giusta E arrivò American Beauty Quindi dopo American Beauty Io Non mi distribuivano Su ruoli Più piccoli Ma facevo direttamente Le ragazze Della mia età Come era giusto Che fosse Certo Piccolo aneddoto Vai 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 American Beauty Sì 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 Durante I provini Vairano E dall'America Chiesero i provini Per Angela Per Mena Suvari C'erano Tre scene Di cui Una era quella lì Con Lester Con Kevin Spacey Dopo Diciamo Il fattaccio Lei si Si dispiace Si mette Si stringe a sé E E gli dice Mi sento tanto stupida Mi dispiace E piange Lui la braccia E gli mette La coperta Intorno alle spalle E durante Quel provino Insomma Fu talmente Emozionante Che Francesco Vairano Decise Di tenere Nel film Proprio Il provino Che ho fatto Perché era venuto Totalmente bene Che non L'ha voluto Toccare Ha mantenuto La spontaneità Quelle Tre frasi Quelle tre frasi Sono proprio del provino Tra l'altro Film Pazzesco Secondo me Una Una fotografia Della società occidentale Di quel periodo E di quel periodo Si si è vero Concordo Film Bellissimo Amarissimo E Ruolo Poi tuo Non facile Non facile Era un po' Lolita Un po' Sì ma era Lolita Cioè non era vero Che lo era Esatto Si mostrava In un modo Ma in realtà Era in un altro Assolutamente Un film Favoloso Quindi L'inizio E' stato American Beauty Poi Volendo tracciare Qualche tappa Fondamentale Beh Prima di American Beauty C'è stato Il famoso Forrest Gump Ah è vero Forrest Gump Questo me l'ho redimenticato Che hai doppiato Forrest Gump C'era la piccola Jenny No? Il Corrie Corrie Forrest Eh vedi A proposito di frasi Iconiche Tu hai detto Corrie Forrest Sì A Corrie Forrest Anche lì Vabbè Pensa io sono andata In sala lì E già avevo capito Che quello era un filmone Tu pensa come stavo No? Io lo sapevo Beh 12 anni Non è che ti puoi No? Sì Invece Io lo sapevo Che quello era un filmone Proprio importantissimo Era troppo bello Film Aveva solo vinto L'Oscar per il miglior film Poi Quindi direi che Che figo Ci avevi Pecca Tra l'altro Lì anche secondo me Francesco Pannofino Incredibile Beh è stupendo Bravissimo Irriconoscibile In un ruolo difficilissimo Perché lì è facilissimo Diventare macchietta Invece non lo diventa mai Pensa allo studio Che c'è stato dietro Con Maglio De Angelis Io me lo immagino Tutte e due a capire Maglio che Che dice Allora come possiamo fare Qua Maglio era molto bravo Sì sì Perché ti dava Poche indicazioni Ma erano sempre Quelle giuste E poi Amava il suo lavoro Perché C'era sempre Un clima molto allegro E quindi Tutto era molto più leggero Senti Tu prima parlavi Di appunto Grandi maestri Grandissimi Insomma Le esperienze Che ti hanno comunque Formata Ma c'è Un insegnamento Che ti è rimasto C'è proprio Anche un aneddoto Un segreto Un metodo Una tecnica C'è qualcosa Che ti è rimasto impressa Che tuttora Magari adesso Ci fai ancora caso Sì sì Sicuramente Doppia gli occhi Eh sì Non la bocca Se tu ci fai caso Nei doppiaggi fatti male Gli occhi sono sempre Da un'altra parte Rispetto a quello Che tu dici Sì È vero Se tu invece Se tu segui gli occhi Oltre che la bocca Chiaramente È diverso Ci fai meno caso Al fatto che il prodotto Sia doppiato È vero È vero E poi un'altra Che sicuramente Ho imparato Che se tu hai Una tecnica Che è perfetta È come quando suoni Uno strumento Se tu Ma proprio Non ci pensi più Come quando suoni Il pianoforte Fai 3000 scale Ti eserciti Dalla mattina Alla sera E poi dopo Bam Ti metti a A suonare Chopin E sei libero Di fare quello che vuoi Quindi la tecnica Per poi essere liberi Lì davanti Bello Mi piace questa cosa Cioè la tecnica Che ti rende libero Non ti ingabbia Sì la tecnica Che tu Per quanto ce l'hai Perfetta Proprio te la dimentichi Non ci pensi proprio Certo Certo A proposito di libertà Mi vorrei legare subito Così intanto Facciamo andare le immagini sotto Così ci iniziamo Ad avvicinare All'attualità Dei tanti ruoli Importanti Da cui sei abituata Però come dicevamo In apertura È un periodo caldo Per domitila d'amico Perché Cioè questo film Questo Crudelia Che ha un trailer Molto molto bello Molto forte In cui Ho percepito Delle note Diverse Su Emma Stone Perché è una Emma Stone Parecchio diversa Dal solito Ti voglio chiedere Anzitutto Come ti trovi Su Emma Stone Perché È un'attrice Che fa di tutto Che fa di tutto È bravissima È brava a fare Il drammatico L'ironico E in questa Crudelia Che appunto è L'origin storia Di Crudelia De Mon Come l'hai trovata Però il film Immagino Tu l'abbia già addoppiato Tutto Giusto? Sì Ok Anche uscirà a maggio Quindi ti chiedo un po' L'esperienza Di Crudelia Come hai trovato Emma Stone Con questa nuova sfumatura Di voce Un po' Oscura Ecco Guarda Non è Tanto la sfumatura Di voce È proprio che Il personaggio È È un po' Particolare Nel senso che Eh sì È un po' Particolare Chiaramente Tu La vedi così E poi nel film La vedi anche Colà Cioè più di tanto Non posso Sì Vabbè Certo Infatti Mantenerti sul generico Ovviamente Sì Ecco Sì È un ruolo che È stato veramente Molto Difficile Anche da un punto Di vista Tecnico E Speriamo che sia Venuto bene Giuseppe Io Veramente C'ho Su questo film C'è il sangue Mio Sì Sì Quindi è stato Faticoso Molto Difficile Sì Molto Ah vedi È stato È stato molto Faticoso Non vedo l'ora di Vederlo Eh Anche noi non vediamo l'ora di vederlo Speriamo di vederlo al cinema Eh esatto Perché appunto dovrebbe uscire in doppio Infatti vedete Ti posso dire quest'aneddoto? Sì come no Ma noi vogliamo Aneddoto Ti posso dire che ho doppiato con la parrucca in testa Ma per calarti nel personaggio Sì Vabbè è fantastica questa cosa Poi quando sarà metterò le foto su Instagram Però quando esce È una promessa questa Questa però è la grande anteprima che hai dato a noi di Movie Player Dai Che hai dato con la parrucca Sì Bellissima questa cosa Vedi a proposito dell'essere fisica e del calarti anche fisicamente nel personaggio Che bella questa cosa Mi piace molto Dai divertente Su Emma Stone io ti trovo sempre Sarà che a me piace particolarmente Ma è ricca di sfumature E tu riesci a restituirle tutte Cioè dall'ironia Cioè dall'essere proprio simpatica A quella Essere a volte sarca Ecco il sarcasmo Cioè delle sarcasme Tipo nella favorita Mamma mia Cioè lì è incredibile E tu sei stata grandiosa Nell'estituire tutte quelle sfumature Perché lì Fa paurissima lì e lei Fa paura Fa veramente paura Quindi Cioè immagino che Emma Stone sia una delle attrici Che ti dia anche un po' più Spettro Non so Cioè me la immagino con più ampia Parecchia ampiazza Sì 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 Guarda è particolare questa cosa Perché lei è una Diciamo delle attrici Che sento più vicina Anche fisicamente Non lo so Avverto un'affinità Avverto sì Un'affinità E poi avverto questa grande simpatia Cioè si vede che lei ce l'ha Rimanendo nel cinecomic Mi hai detto che c'è un aneddoto Su An Adway Catwoman Di Nolan E adesso lo vogliamo sentire Beh l'aneddoto Sì l'aneddoto è che Mi chiamano per questo provino Senza dirmi niente Quindi vieni a fare questo provino Con il direttore Marco Mete Vai lì Sono andata lì Entro in sala Ciao ciao Ecco Allora ecco Questo è No no Scusami non era Ti ho detto provino o trailer No provino No no Non era provino Era proprio il trailer Sul trailer direttamente Scusami Sì 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 Era proprio il trailer Ma non sapevo cosa fosse Quindi arrivo lì Ciao 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 Allora ecco qua Questo è il trailer E io ho fatto Oddio Adesso perché Non l'avevo mai doppiata A Nathaway Era proprio la prima volta Poi l'avevano doppiata Anche altri colleghi Sì Ho detto Oddio qua già Adesso mi sparano Devo fare Il finale di una saga Leggermente attesa Esatto Allora insomma Marco Mete mi ha detto Guarda Qui io ho deciso Che ti voglio mettere Su Anathaway Perché secondo me Ci stai benissimo Quindi è inutile Poche chiacchiere E facciamo Facciamo questo trailer Che vedrai Che ci stai da paura E la cosa difficile Era mantenere Una recitazione Molto da presa diretta Quindi cercando Di far sentire Il meno possibile Il doppiaggio Cercando proprio Di essere Il più naturale possibile Proprio perché E vicino avevo Santa Maria Che doppiava Che doppiava Batman Quindi avevo tutti i dialoghi Con lui E doveva risuonare Tutto in un certo modo Bella questa Quindi non l'avete doppiato In traccia separata? Sì 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 certo Ti parlo per il risultato finale Ah ok Pensavo l'aveste Perché è abbastanza raro No 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 Tutto sempre in colonna separata E quindi mi hanno detto Già il trailer Hai visto quanto parlava? Parlava praticamente solo lei Sì sì Quindi questa frase Era proprio Era lunga Ed era difficile da fare Però io me la ricordo Una delle frasi più belle Che Ma sta arrivando la tempesta Signor Wayne Sì sì Eh vabbè Con la scena lì del ballo È bellissima È bellissima A parte che Cioè Proprio loro due Cioè È molto sensuale anche la scena Cioè si punzecchiano Sì Però è bellissima Con la scena lì Tra l'altro Ricordo proprio Che lei partiva In un modo E poi finiva Completamente In sottovoce E Insomma Cercare di farla Proprio perfetta Ci siamo stati tantissimo Perché poi era stratteso Figurati Cavoli Cavoli Insomma È da lì È nata questa mia No no Bellissima Scena fantastica E proprio anche il personaggio È È molto È molto ben riuscito Cioè Ha una bella evoluzione Il fatto che Mi piace molto lei Come Come Catwoman Vabbè Certo Michelle Pfeiffer Non si tante Certo Un altro tipo Però Parliamo di Nolan È tutto più A me Nolan Fa impazzire Quindi È tutto più realistico Anche in questo Siamo d'accordo Io sono Nolaniano convinto Per cui Pure io È alla grande Allora Però poi Un giorno Non parliamo di Tenet No Vabbè Poi parliamo di Faremo una live Solo su Tenet Vabbè Sicuramente sì Tra l'altro tu pensa Quanto è rimasto il personaggio Domitilla Che in chat Ci stanno Scrivendo le frasi del film Fra Sta arrivando la tempesta Signor Wayne Che emozione Niente armi Niente morti E il divertimento Dov'è È una ragazza Deve pur mangiare Una ragazza Deve pur mangiare Eh vabbè Detta in diretta Pelle d'oca Assolutamente Fra l'altro A proposito di Chicca di Nolan Del realismo Anche il discorso Delle orecchie Da gatta Che si creano Con gli occhiali È una chicca Di design Secondo me Affigata Vabbè Ma che io vuoi dire È fantastica È fantastica Senti ma tu Ecco da spettatrice Visto che hai doppiato E doppi ancora Personaggi Marvel e DC Ti piace più Il modello Più di intrattenimento Di Marvel O i DC Che sono un pochettino Più cupi Cioè da Intanto in chat Si sbilanciano Con un domitilla Ti amo Grazie C'è moderazione In chat C'è moderazione In chat Ma Sono due cose Completamente diverse È chiaro che Sono Sono legata Molto Mi piacciono Tanto i Marvel Eh Però Ecco Non disegno Neanche di sì Non riesco A scegliere Tra i due Certo Insomma Di sì Mi aspetto Qualcosina in più Sì Decisamente sì Mi aspetto Qualcosina in più Diciamo che sono stati Un po' di film Di rodaggio Sì concordo E al di là Dell'ultima battuta Del trailer Promette bene Suicide Squad Comunque Secondo me Speriamo Sì sì Secondo me Domitilla Una di noi Speriamo Sì Al di là Delle battute sconce Però secondo me Ci sta E fra l'altro Anche su Margot Robbie Che te lo dico a fare Allora Margot Robbie È Fighissima Margot Robbie È fighissima Perché è una bionda Che non slavata Bella Ha Un'espressività Pazzesca Poi cerco In qualche modo Ogni volta Di riprodurre Quello che lei fa Perché ha una voce Particolarmente Nasale Ah beh Interessante questa cosa Non ce l'ho in mente La voce sua originale Sì È abbastanza nasale Parecchio Anzi E quindi cerco Di Qualche modo Di rifare Di restituirla Di restituire Questo suo modo Di recitare A me piace Veramente tanto Anche lei Vabbè Ma sono tutte brave Dai Sì infatti C'è Assolutamente Cominciamo Lei è proprio Fantastica Era sulla Johansson Che avevo un po' Di dubbi All'inizio Poi adesso Si sta lasciando Un po' andare Vedi Ha iniziato a fare Anche storia In storia di un matrimonio Che è stata fantastica Anche lì Vabbè Che te lo dico a fare Altro che aneddoti Lì proprio Dopo l'ultimo turno Prima di tornare a casa Mi sono fermata In un pub Da sola E mi sono fatta Una pinta di birra Così Per come stavo Proprio di adrenalina Per quanto avevo pianto Per quanto Avevo dato Prima di salire a casa Prima che Almeno Sono entrata Più rilassata Si Si percepisce anche questo Domitiva Quello è un film intensissimo Io ricordo che Scarlett Johansson A Venezia disse Che ci ha messo del suo Nel film Perché lei si stava separando E per me anche lì Quella scena del litigio Fra loro due Mamma mia Ci sentivamo con Gianfranco Miranda Ma l'hai fatta tu La scena Sì L'ho fatta ieri Oddio Oddio Poverino Anche lui era proprio Traumatizzato Tra l'altro Ti dico una cosa L'anno scorso Fra Storia di un matrimonio Ojo Jojo Rabbit Meritava l'Oscar Scarlett Johansson Secondo me si Chissà perché non gliel'hanno dato Vabbè forse Jojo Rabbit Non lo so Però su questo Secondo me lo meritava Ce lo meritava Forse non gliel'hanno dato Sai Forse perché avranno pensato Vabbè Stava passando esattamente Quel periodo lì Più di tanto Non si è dovuta spremere Secondo me Il risultato era quello Però poi fanno anche loro Un ragionamento È vero È vero Allora Ecco un'altra cosa interessante Visto che parliamo di Oscar Ti faccio una domanda Che forse è stupida Però me lo chiedo sempre Ma Voi quando avete Un attore In tuo caso Un'attrice candidata Un po' Poi se vince l'Oscar Cioè lo sentite Non lo so Avete quel senso di appartenenza Fate il tifo Ammazza Per i vostri attori Io sì Ma mi prenderanno Tutti in giro Sicuramente Però perché Per me è una cosa Molto tenera È certo Vinto io l'Oscar Ah Come no Tra l'altro Ti è capitato Con Emma Stone Sicuramente Sì Forse Ti è capitato Pagli No sto pensando Sto pensando Tra l'altro tu hai doppiato A proposito di ruoli Che meritavano l'Oscar Margot Robbie Antonia Superlativa Mamma mia Anche lì Vabbè Proprio per ridare Proprio era greve Era di un In greve Cercato di restituire Il tutto pure lì Anche i dialoghi Erano fatti particolarmente bene Sì È vero È un film Molto molto bello Però Sì immagino Che Tipo La La Land Quando vinse È stata una bella Una bella Eh ricordo Ho messo proprio la foto Ho detto Eccomi Certo Tra l'altro con La La Land Io Lo amo profondamente Quindi Immagino Io già ero un tuo fan prima Poi dopo Emma Stone La La Land Grazie Apriti L'ho decollato Eh sì 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 Assolutamente straordinaria Anche lì Perché Un ruolo molto complesso Lei è straordinaria Di un'intensità pazzesca Non ti nascondo Che quando Noi la vediamo a Venezia Sì Quando ho visto Il monologo suo La canzone The Fool Lì ho detto L'Oscar è suo Beh sì sì Cioè è proprio Pazzesca lì È grandiosa Da quella canzone Sì insomma Si capisce tanto Come la canta Poi sai Non c'entra neanche Il fatto di avere Una bella voce Tutto quello che lei È riuscita a esprimere Certo Si emoziona proprio È vero È vero A proposito di Oscar C'è un altro film In cui hai un'attrice Candidata all'Oscar Quest'anno la migliore attrice Che è Carrie Mulligan Per una donna promettente Sì Tra l'altro In inglese Promising Young Woman Sì Il film fra l'altro Era stato annunciato ad aprile Ora non so se esce ad aprile ancora O a luglio Perché Guarda non si sa quando esce Io l'ho doppiato l'anno scorso Figurati È vero L'hai doppiato l'anno scorso Vedi ecco Eh Ti volevo chiedere Che esperienza è stata quella Anche perché è un ruolo Molto particolare Molto forte Anche inedito Per Carrie Mulligan Lo devo vedere Giuseppe Lo so che a te è piaciuto tanto Eh Lo devo vedere Ok Lo devo vedere Tutto Tutto di seguito Devo restare un po' Concentrata Però Lì per lì Ho seguito la Sua performance Ho cercato di Sempre di restituire Quello che faceva lei Eh Lo devo vedere Tutto di seguito Non 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 mi posso esprimere Per questo poi Quel giorno te l'ho chiesto Sì sì Ricordo Ricordo Perché lì per lì Non mi aveva Lasciato granché E invece Se a te è piaciuto Si devo trovare Devo vedere Lo devo rivedere Sì sì Guarda Lei ti ripeto Mi è piaciuto tantissimo Come hanno giocato Proprio col casting Perché tu Carrie Mulligan L'associi sempre ai ruoli Perché ha questo molto Antico Sì impegnatissimi Eh impegnati Sempre impegnati Esatto Anche quella bellezza delicata Fragile Anche un po' mosci a volte Sì esatto Invece qui è piena di rabbia E io immagino perché Cioè tipo la scena finale Deve essere stata tosta A doppiare Sì 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 Non andiamo in spoiler Però deve essere stata Bella tostarella Però insomma Immagino È stato un ruolo Anche quello Molto impegnativo Io personalmente Vediamo che succede Tu che dici Guarda I bookmakers Cioè C'è molta indecisione Nella categoria Una delle categorie Più incerte quest'anno C'è Viola Davis Che ha guadagnato Punti Però Carrie Mulligan È fra le tre Diciamo delle cinque Se la gioca un po' Con Viola Davis Soprattutto Però Cioè Non è così C'era pure un'altra Che avevo visto Che secondo me Era Molto papabile Chi è a parte Viola Davis Frances McDormand Frances McDormand Dici No No Poi c'è Ah Vanessa Kirby È fantastica Molto brava In Ah in quel film Sì sì L'ho visto Eh Tosto Quella c'è una scena D'apertura Che Mamma mia Non ce la siamo dimenticata Non ce la siamo dimenticata Ho chiamato la mia Collega Francesca Le ho chiesto Le ho fatti i complimenti Perché ho detto Mamma mia Incredibile Intanto Ti faccio Ma vedi La chat è scatenatissima Ti chiedo Ma Domitilla Guarda gli Oscar Cioè tu li guardi ogni tanto Da spettatrice Se li guardo Certo che li guardo Certo che li guardo Ci mancherebbe che non li guardo Allora Da sempre Ah fantastico Guarda Io calcola che noi Domenica notte Facciamo la maratona Qui su Twitch Quindi se ti va Noi siamo qua Ogni tanto intervengo Esatto Vedi che Guarda Lo sai che ne approfitto Sempre per invitarti Quindi Io Ne approfitto subito Quindi Stai tranquilla Mi piacerebbe doppiare il discorso Di Emma Stone Lo volevo fare all'epoca Però ho detto Ma no Magari faccio una cafonata Che è sta cosa Vabbè Secondo me invece è divertente Mi sa che lo fece Francesco Pezzuli Però già è un'altra cosa Lo fece tramite Radio DJ Io che mi metto E faccio il discorso Vabbè Ma adesso vediamo Se lo vince la Malligan Faccio il discorso Fa il discorso E lo mettiamo su Movie Player Se vuoi Solo su Movie Player Ok perfetto Vedi è già Abbiamo l'esclusiva Su Abbiamo l'esclusiva Già fatto Intanto ti chiedono anche C'è una saga in cui Domitilla Avrebbe voluto doppiare No 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 Sono contenta così E beh Direi che Sì Domitilla Top Cinefila Ti dicono Sì Beh Deve saghe Che Signore degli Anelli Harry Potter Vabbè Nel Harry Potter Faccio la mia piccola Niffadora Talks Mi piace sempre Vero Esatto Sì sì Vero Magari in cosa In Game of Thrones Ma quello va bene così Va benissimo Poi a me è piaciuto anche Quello tanto Lo sono visto tutto Era un doppiaggio Sì sì Grand doppiaggio Dobbiamo offrire una petizione Per far tornare Niffadora Ci dicono Facciamo una serie Su Niffadora Ci sta Ci starebbe Intanto Giuseppe ci dice Comunque anche per me Dal doppiaggio di Emma Stone In Lara Land È amore assoluto Per Domitilla Grazie Vedi che cose belle Allora Io non Non ti voglio rubare Altro tempo Perché sei stata quasi Un'ora con noi So che non ci puoi dire nulla So che non ci puoi dire nulla Ma ti chiedo Perché ce lo chiedono Anche in chat Ritrovare Natasha Come è stato in Black Widow Che dovrebbe uscire a luglio Il 9 luglio Allora ragazzi Vi dico solo questo Vai È bellissimo Oh Bene Siamo molto felice Mi basta Mi basta Perché siamo affamati Di Marvel Al cinema Perché ci stiamo gustando Le serie su Disney Plus Per carità bellissime Ma Tra l'altro Ti dico È un'altra cosa E ti dico che Il film È stato già doppiato Sì Immagino di sì 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 Lo può dire Lo può dire È stato doppiato Certo Sì sì è stato doppiato Io ho Dal trailer Ho avuto proprio Delle sensazioni Di Deja vu positivi Di Capitan America The Winter Soldier Che è uno dei miei capitoli preferiti Nell'azione Nel tono delle spy story E tutto E poi Sai che c'è che è pulito Sì Sì Se vuoi Se capisci Che voglio dire È molto pulito Ok E poi Ha Ha un'ottima trama A me è piaciuto Proprio tanto Bene Bene Sono molto felice Di questa cosa Ci crea ancora Più Più hype E Intanto Mi ricordo I bei tempi Di Raven Ti dicono Eh anche Per chiuderti Che faccio Un'altra Un'altra curiosità Sì In cui Lo dico Proprio da spettatore Ti ho trovata Eccezionale Di una serie Secondo me Mai abbastanza celebrata Eva Green In Penny Dreadful Vabbè Cioè Altro che aneddoti lì No Ecco Giusto Qualche retrosceno Su Penny Dreadful Perché è un personaggio Che ho amato E lì sei stata Particolarmente eccezionale A stare dietro A un'attrice Che secondo me Lì è proprio L'esplosività Di Eva Green Del suo talento All'ennesima potenza Ma quella Secondo me Lei è secondo me Proprio così Io la sto un po' Cercando Devo dire Perché Sai che la sorella Lei ha una sorella gemella Sì La sorella gemella È sposata con un conte Italiano Ah E vivono Vicino Montepulciano Cioè Lei vive in Italia Eva Green La sorella La sorella Ah ok Eva Green Sta spessissimo Lì Dalla sorella E allora E allora Ho cercato Insomma Il marito Della sorella Ha una vigna in Toscana Mi piace questo stalking Che ha questa tenuta Dove fanno un vino Sì Che è importante Si chiama Le crocine E io adesso Sto aspettando Sai lì Come La preda Mi apposto Mi apposto Fra poco Parte la mail Bellissimo E voglio Voglio provare A chiedere Se è possibile Un incontro Vabbè Aggiornaci almeno Su questo Vi aggiornerò Su questo Comunque In Penny Dreadful Tutte le scene Che tu vedi Sono state doppiate Da me Con un pancione Così di otto mesi Perché ero incinta Del mio secondo figlio E che adesso Poi se ci penso Ho capito Perché è uscito Così un po' Indemoniato Diciamo che L'influenza oscura Gotica Della serie Ha influenzato Beh poveraccio Cioè Si è sentito Praticamente Delle urla Sataniche Dai Veramente lì Altro che polmoni Eh immagino Fazzesco Però ecco Lei è un'altra Di quelle attrici Che mi dà Grandi soddisfazioni Perché Perché Non so se Io l'avevo detto In una In un'intervista Mi pare Su un giornale E questa cosa È piaciuta tanto Perché A me lei ricorda Un po' Greta Garbo Ah bello Sì Nel modo di Sì E quindi Cerco di Restituirle Un po' Il modo Di Greta Garbo Anche sai Quando parla Così Perché lei In realtà In originale È così È sempre Ammaliante Molto Scura È vero Ha un'aura Proprio intorno Quasi di stregoneria Io per questo La devo conoscere Bellissimo Devo capire Se Se c'è Questa cosa Dal vivo Insomma Poi la doppia Da 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 The Dreamers Ci sono vent'anni La doppia E del 2001 Quello se ne ricordo male Non sempre io No però Insomma L'hai vista crescere Maturare Però è vero Dici proprio bene Ha questa Oscurità Cioè Ha questa È sensuale Però Non lo so Ha un magnetismo Tutto suo Eva Green Sì ce l'ha solo lei Sì sì E anche sai cosa Che non è americana Si vede che Ha qualcosa di europeo Ha quel che In più Certo Certo Vedi cose di cui Solo chi la doppia Se ne può accorgere Però questo Stalking di Domitilla D'amico Eva Green Dai Ce la farò E' emersa Da questa Da questa live Intanto Concordo con Ruggero Pelle d'oca Si chiudi gli occhi Vedi Eva Green Assolutamente sì Assolutamente sì Che dire Grazie innanzitutto Per questa bellissima Chiacchierata Grazie a te No Che dire Sappi che Cari Mulligan Se vince l'Oscar Ci farai Il discorso Quindi farò Sì lo faccio Però lo scrivi tu Guarda E' un pazzo Scrivi tu il discorso E' andata Alle 20.03 Del 20 aprile 2021 Facciamo questo patto Se Cari Mulligan Vince l'Oscar Scriviamo Facciamo il doppiaggio ironico Con Domitilla Che c'è la doppia Dai Fantastico Fantastico Andata Domitilla Ti abbraccio virtualmente Abbraccio anche io a te Grazie davvero di tutto E ci rivediamo Ci si vede in giro Ci si vede in giro E ci risentiamo Spero in sala presto Di sentire la tua voce E cheggiare Nelle sale italiane Che speriamo di approfondire presto Un abbraccio E grazie ancora Un abbraccio a te E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Domitilla Ciao Ciao Grazie.